Chi sei tu? Scherzi? Il bagliore scintillante? Gli svolazzi? Sono la tua fata madrina? Mi è piaciuto moltissimo doppiare fata madrina, io poi amo doppiare e quindi quando poi mi dicono e mi fanno vedere, mi fanno ascoltare le avventure o questi personaggi così teneri e dolci, io impazzisco. Hanno rapito mio fratello Charlie, puoi usare la bacchetta magica per riportarlo da me? Quindi mi sono preparata e ho detto, Cree devi essere te stessa. Ma com'è l'abito, la bacchetta magica, il bagliore scintillante e lo svolazzare nell'aria? Ma come puoi non aver capito? Sveglia! Doppiare questo personaggio è stato non solo divertente, ma mi ha dato tanta carica e tanta forza e tanta voglia soprattutto di sognare e di volare. È un luogo dove i desideri si avverano uno dopo l'altro. Io, come lei, dico al mio pubblico che bisogna credere nei propri sogni. Ed è anche un posto magico. La canzone mi ha trasmesso sicuramente tanta gioia, tanta allegria, tanta voglia di volare e di non avere paura. Non frenarti mai, apri il cuore e vai, non nascondere le lacrime. È una canzone che ti porta veramente a sognare e a cavalcare proprio l'onda della fantasia. Ragazzi, vi aspetto dal 31 dicembre al cinema con Playmobil The Movie. Non mancate! Ci sono anch'io, fatta madrina. È pazzesco!